Lotta contro la vendita di prodotti natalizi che non rispondono a una normativa vigente e a requisiti di sicurezza. E' l'azione portata avanti dalla Guardia di Finanza di Modica con l'operazione Save Christmas. A finire nel mirino delle fiamme gialle gli addobbi luminosi commercializzati in prossimità delle feste natalizie, la Guardia di Finanza ha già scoperto e sequestrato a Modica Scicli 1200 confezioni tra catene luminose da parete, luminarie d'appartamento, catene luminose per alberi di Natale. Gli addobbi non presentavano la marchiatura CE, l'indicazione sui rischi in lingua italiana e inoltre non possedevano l'indicazione del paese produttore e dell'importatore. Tre soggetti di etnie cinesi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per rispondere penalmente delle violazioni. Sono state inoltre erogate sanzioni amministrative che potrebbero giungere a circa 25.000 euro per ciascun commerciante. La Guardia di Finanza proseguirà nell'attività di controllo sulla sicurezza dei prodotti. L'obiettivo è quello di difendere il consumatore. I prodotti non conformi alla normativa vigente possono non essere sottoposti a quei rigorosi controlli che li rendono sicuri ed adatti all'uso domestico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.